il un 4 5 sono le 7 e 38 a casa a prepararmi e che cosa non lo so mi hanno detto che oggi c'è un attimo qualcosa da fare a dopo a dopo buongiorno amore mio siamo arrivati a casa le 9 meno un quarto amore sono le 8 e 10 sono molto emozionato, comunque faccio tanti auguri a mia figlia Sara tantissimi auguri alla mia sesterina ciao Sara, ciao Antonio tanti auguri a mio fratello tanti auguri comincia una nuova vita spero che siano felici per sempre sei emozionata con mio fratello? un po' un po' si vediamo che ci esce oggi bocca al lupo bocca al lupo a mio fratello e tanti auguri ciao ciao in bocca al lupo perché aspetta una lunga giornata si 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 cosa dire? scusa cosa vogliamo dire agli sposi? che mai metto un peso oggettivo? devono fare bravi ragazzi soprattutto bravi ragazzi e poi? questa notte vi raccomando andateci piano siete cammini ciao tesoro sei pronta? io quasi io sto ancora aspettando che torna la mia mommina per farmi il fiocco spero a te tutto bene con trucco, capelli e quant'altro ci vediamo tra poco amore mio che... che manca pochissimo non gli devo di niente ruggiosa tutto ciao amore ci vediamo tra poco ci vediamo ci vediamo ci vediamo ciao ciao ciao